Cuore e prevenzione cardiovascolare nel paziente oncologico e questo il tema delle giornate cardiologiche del Centro Cuore Milano Malpensa. L'appuntamento scientifico organizzato e promosso dalla Fondazione Isegni e Nervi è presentato oggi, mercoledì 23 ottobre, a Roma alla Sala Caduti di Nassiria di Palazzo Madama. La conferenza stampa di presentazione è tornata al Senato della Repubblica su iniziativa di Elena Murelli, segretario della Presidenza e membro della Decima Commissione Permanente. È stata proprio lei ad aprire i lavori insieme ad Andrea Macchi, direttore generale degli istituti di ricovero e cura Gruppo Isegni Sanità Centro Cuore Milano Malpensa. Per sapere quindi che il famoso team multidisciplinare di cui si parla tanto all'interno dei convegni esiste veramente grazie alla Fondazione Isegni e grazie ai professionisti che oggi ci hanno dimostrato che la loro professionalità è importante per andare a fare prevenzione soprattutto e per fare in modo che i pazienti siano seguiti dal momento in cui hanno un diagnosi di tumore ma possono avere anche ripercussioni dal punto di vista cardiovascolare. Cardio-oncologia è un esempio, un esempio direi fulgido di associazione fra degli specialisti per la persona al centro. Perciò mettere insieme tutti gli impossibili, trarre informazioni e guadagnare informazioni per il paziente sia su un versante che sull'altro e una cura precisa sia di una patologia che dell'altra porta a potenziare la prevenzione. La cardio-oncologia è una disciplina medica ormai consolidata, finalizzata la diagnosi, prevenzione e gestione delle malattie cardiovascolari nei pazienti oncologici. Fondamentale è l'attività di diagnosi così come la gestione cardiovascolare del paziente che ha o ha avuto in passato una malattia tumorale. La cardio-oncologia è una branca estremamente importante perché è iniziato il discorso col fatto che le terapie oncologiche possono avere un effetto negativo sul cuore. Il paziente oncologico può avere delle malattie cardiovascolari preesistenti ma poi il nostro compito è evitare che abbia una tossicità aggiuntiva da parte delle terapie. Riusciamo a vedere i danni dalla terapia dati magari nei pazienti oncologici, dalla terapia tumorale, i danni al cuore ancora prima che questi clinicamente si manifestano e questa è la cosa importante e questo che bisogna fare, questa che è la prevenzione e il senso della prevenzione che noi diamo nella clinica Iseni e tutto questo grazie alle perchiature che vengono messe a disposizione assolutamente. Questo è di principale importanza per una diagnosi precoce dei danni cardiovascolari da cardiotossicità. A sottolineare la forte valenza scientifica del congresso organizzato dalla fondazione presieduta da Fabrizio Iseni, l'attenzione è riservata alla sedicesima edizione dal mondo sanitario e istituzionale che guarda da vicino l'attività di prevenzione sul territorio del centro cuore Milano Malpensa. Fondamentale la prevenzione in sanità soprattutto in alcuni settori, le malattie cardiovascolari in generale e come impattano poi quando purtroppo capita a molte famiglie si incorre in una patologia di tipo tumorale. Quindi il lavoro che fa la fondazione Iseni da questo punto di vista e giunta alla sedicesima edizione di questo incontro molto importante va nella direzione giusta. Tutto ciò che va nel senso della prevenzione che aiuta a capire, a sensibilizzare è qualcosa di molto positivo e noi siamo dalla parte di chi mette in campo iniziative di questo genere. Torna un appuntamento molto importante come le giornate di prevenzione cardiologica quest'anno con un focus importante anche sull'oncologia. È importantissimo fare prevenzione e avere consapevolezza come fanno gli istituti Iseni di quanto si possa prevenire l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e nel caso specifico anche oncologiche. Ecco, occorre una consapevolezza anche da parte del legislatore che bisognerebbe riattivare tutto il sistema delle verifiche a partire dai ragazzi a scuola per arrivare alle fasi intermedie nella crescita di una persona per evitare di trovarsi in età adulta con problemi che potevano essere prevenuti in anticipo. Ottima iniziativa, ci auguriamo ovviamente il miglior successo. Non posso che fare i complimenti anche quest'anno alla Fondazione Iseni che realizza questo importantissimo convegno al Senato della Repubblica. L'importanza della prevenzione è sotto gli occhi di tutti. Anche da questo punto di vista un piccolo merito. Siamo riusciti a portare in Consiglio Provinciale il dottor Franco Compagnoni che è un cardiologo di primo piano dell'ospedale di Luino perché riteniamo che comunque non solo la regione debba occuparsi di sanità ma anche i comuni attraverso i loro sindaci e anche attraverso i consiglieri provinciali. Portare in questo caso anche in provincia dei medici bravi è importante. Quindi complimenti alla Fondazione Iseni che come al solito vede più in là di tanti. Molto importante il tema al centro di questo convegno organizzato al Senato della Fondazione Iseni Nervi perché mette al centro la prevenzione su quello che riguarda le malattie cardiovascolari soprattutto e la prevenzione sappiamo bene che è il futuro, mettiamola così. Cioè i costi oggi della cura sono molto elevati, è giusto curare i cittadini ma prevenire è meglio per tutti. Vuol dire risparmiare sul lato della spesa pubblica, vuol dire garantire una vita migliore ai nostri cittadini. Quindi la strada della prevenzione è una strada che dobbiamo a tutti i costi perseguire quindi benvengano questi incontri così importanti, così istituzionali dedicati a un tema così fondamentale per il nostro paese.